Ciao a tutti e buon feragosto! Purtroppo ho la bimba influenzata e per questo motivo ho deciso di creare un tutorial che in qualche modo ricordasse il mare. Preparerò la sabbia cinetica. Prima di tutto prenderemo un recipiente di questa grandezza, poi ci occorrerà 150 mg di amido di mais, 150 mg di semola e 100 ml di olio di semi. E' il colorante alimentare. Iniziamo a mescolare i vari elementi, li metterò tutti nel recipiente. Questa sabbia cinetica è composta da elementi naturali commessibili, quindi nel caso in cui i vostri bimbi la mettessero in bocca non succederà nulla. Metto un pochettino di colorante alimentare, in questo caso di colore rosso. inizio a mescolare i vari elementi. Ecco qui, dopo aver impastato per qualche minuto la sabbia cinetica è pronta. vedete, rimane sabbiosa e nel momento in cui si compatta rimane unita. Adesso Ginny, vai, prova tu a fare la formina. bravissima, non preoccuparti, vai. Vai, brava. Ti aiuta mamma? No. Ok. E' intraprendente la bimba. Ok, basta così, basta così, adesso diciamo la parolina magica. Vai, bravissima. Proviamo? Vai, valla qui. La parolina magica? La parolina magica? La parolina magica. Ed ecco qui la sabbia magica. Se vi è piaciuto il nostro tutorial mettete mi piace e iscrivetevi al nostro canale. Ciao a tutte!